Il sabato 30 dicembre, vigilanza radio controllata per il sindaco di Santa Elisabetta Domenico Guelli, lo ha disposto il Comitato Provinciale per l'Ordine alla Sicurezza Pubblica, convocato dal prefetto di Agrigento Filippo Romano, dopo che lo scorso 22 dicembre l'amministratore ha ricevuto il municipio tramite posta una lettera di minacce di morte e insulti rivolta a lui e ai suoi familiari. La procura di Agrigento ha ricostruito e illustrato alla stampa i passaggi fondamentali dell'inchiesta sulla vicenda della donna di Palma di Montechiaro che aveva denunciato il marito per aver tentato di sfregiarla con l'acido. La dinamica diametralmente opposta a quella che era stata proposta dalla stessa indagata, adesso sottoposta a custodia cautelare. Sarebbe stata lei a lanciare l'acido addosso all'uomo, rimesso in libertà il marito che era stato raggiunto da misura cautelare. Nel corso della conferenza stampa di fine anno il sindaco di Sciacca Fabio Termini ha affrontato anche la questione della sostituzione del dimissionario assessore Francesco Sabella. Rispetto all'autoproclamazione d'assessore di Giuseppe Ambrogio, Termini ha detto che tocca al gruppo Ferdinandea, soggetto politico ispirato dall'ex sindaco Francesca Valenti, indicare una figura che possa assumere la delega al bilancio e finanze. Siamo preoccupati, e non poco, per i dubbi espressi anche dalla colonna del Sole 24 Ore, circa la questione di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Così, Lega Coppa Sicilia, che aveva espresso come associazione di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, grande soddisfazione per la nomina. Lega Coppa adesso parla di immobilismo accompagnato dalle incapacità di fare sistema intorno ad un'occasione più unica che rara, a cui si aggiunge l'assenza di una strategia comune. Il presidente della regione, Renato Schifani, ha stoppato il decreto dell'assessore ai beni culturali, che introduce dal 1 gennaio aumenti del 30% sul prezzo dei biglietti d'ingresso in musei. Dopo il disappunto del governatore, in tutta fretta, l'assessore Francesco Scarpinato ha dovuto emanare una rettifica del provvedimento che dimezza la crescita delle nuove tariffe. Calcio Unitas e Sciacca chiuderà il 2023 con un allenamento congiunto in programma oggi pomeriggio a Tommaso Natale con le squadre Parmonval e Sport Palermo. Poi pausa fino al 2 gennaio e ripresa degli allenamenti giorno 3. Il campionato riprenderà il 7 gennaio con la prima giornata del girone di ritorno al Gurrera contro il Mazzara 46. Ieri sera la squadra, con dirigente, staff e tecnico, ha dato vita ad uno scambio di auguri. È tutto per questa mattina, appuntamento alle prossime edizioni. A risentirci. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.